buonasera a tutti ben trovati anche questo venerdì per una sessione dedicata alla piattaforma quindi vi do il benvenuto anche questa sera insomma sempre più importante imparare a lavorare bene sulla piattaforma che ci offre interactive broker la trader world station anche perché al pomeriggio abbiamo di meglio da fare che rispondere a domande tipo ma un ordine limite ma un ordine stop è assolutamente importante che tutte queste cose vengano vengano assorbite perché già dura lottare con i mercati e diventa ancora più dura se dobbiamo anche lottare con la tecnologia e ve lo dice uno che con la tecnologia ci ha lottato ma grazie a davide ha risolto anche anche tanti problemi anche perché poi per risolvere i problemi legati insomma al trading come sapete vi diamo tutte le armi tutti gli strumenti per poter apprendere a maneggiare il vostro denaro come dei veri professionisti e non mi sanccherò mai di ripeterlo di ripeterlo queste armi le trovate direttamente dal nostro sito nella sezione community dove avete la possibilità di interagire con tanti tanti altri membri della nostra vasta community oramai siamo più di 1500 quindi insomma cerchiamo di sfruttarci a vicenda di crescere tutti insieme perché questo è l'unico modo per ottenere una rendita costante quindi mi raccomando scaricare il trading journal tutti i giorni è fondamentale non solamente per le indicazioni più operative ma anche poi per tutto quello che gli sta dietro perché comunque tramite il trading journal potete vedere le notizie vedete oggi quanto si è mosso il mercato se uno non sa che cosa succede alle due del pomeriggio alle otto di sera rischia veramente poi di trovarsi in mezzo ad una tempesta e poi soprattutto vi stiamo vicini attraverso il trading club otto settimane di trading dal vivo affiancati da una squadra di top traders per non lasciarvi mai soli oramai il trading club è alle porte il numero dei partecipanti chiaramente è aumentato in queste settimane quindi sono rimasti veramente solamente pochi posti quindi chiunque fosse interessato per voler aderire i nostri contatti penso che oramai li conoscete ma nel caso vi potete vedere qui in altro il telefono e la mail altrimenti i nostri contatti skype quindi signori mi raccomando mi raccomando contattateci soprattutto se se siete dei dubbi soprattutto se siete in una fase che noi chiamiamo di galleggiamento ovvero tante ore davanti al mercato e poche soddisfazioni ecco questo non è giusto non è giusto buttare via il proprio tempo il tempo è un bene molto prezioso e va impiegato con cura quindi adesso impieghiamolo con cura questa oretta abbondante con davide noi ci riaggiorniamo la settimana prossima perché come sapete facciamo eventi tutte le sere e poi ovviamente vi auguro un buon weekend e a risentirci eccoci qua buonasera a tutti grazie Andrea per l'ottima introduzione grazie a tutti voi partecipanti che non smetterò mai di dirlo siete sempre di più stiamo anche questo venerdì stiamo quasi raggiungendo il numero massimo di iscritti quindi per chi accederà tra penso un cinque minuti non non potrà perché siamo anche questo venerdì pieni quindi grazie veramente di cuore sono davide bergamaschi esperto sulla piattaforma di interactive brokers piattaforma che è una ferrari ma ovviamente come a tutte le cose importanti e potenzialmente forti bisogna andare a imparare impararla in che modo grazie a una piattaforma simulata totalmente identica a quella reale e grazie a un team cioè assistenza brokers che è tutto il giorno al vostro fianco il nostro obiettivo è fare il vostro bene quindi aiutateci ad aiutarvi detto questo riprendo spunto dalla intro di Andrea vi ricordo che sempre sul nostro forum l'ultima sezione vedete è dedicata alla piattaforma se ci cliccate sopra è presente già il link per iscriversi agli appuntamenti del del venerdì come quello che siamo qui oggi il secondo è video piattaforma ovvero ci sono tutti i domande risposte e altri video didattici in versione integrale e sono anche indicizzati quindi non perdete tempo a vedere 4 5 argomenti in un webinar di un'ora e mezza che vi possono interessare il terzo punto è domande piattaforma dove potete inserire domande che ovviamente vi risponderemo praticamente subito e non solo fate del bene alla a tutti voi ma anche ovviamente alla a tutta la community mi sentite ok perfetto dalla regia si mi dicono che si sente ok quindi possiamo possiamo andare avanti allora da questo momento potete scrivermi tutte le domande su piattaforma quindi in chat scrivete pure passiamo con la prima domanda prima domanda di federico federico chiede come ci vanno a creare tabulati su grafico per creare un tabulato innanzitutto dobbiamo aprire un grafico che ci interessa quindi selezioniamo quel sinistro andiamo sul grafico a questo punto andiamo dal menu file prendiamo la voce crea nuova scheda a questo punto inizia la trasmissione tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare ora possiamo andare a inserire tutti gli altri strumenti per esempio andiamo a prendere apple andiamo a prendere un altro strumento che ci interessa per esempio che ne so l'oro che è gc prendiamo il future diamo quello di maggio e così via cliccando sul più è possibile andare a inserire un nuovo tabulato mentre per andare a cancellare una nuova scheda basta cliccare sulla x corrispondente ok per chi si è connesso ora allora innanzitutto è presente la registrazione inoltre da questo momento in poi potete scrivere tutte le domande in chat in modo tale che in ordine cronologico andiamo ad affrontarle allora la prima domanda anzi la seconda quella di Andrea Andrea si chiede puoi costruire un ordine spread e come si sette un ordine bracket dal book ok allora per andare a costruire uno spread chi è che vuole darmi una mano tra i tantissimi partecipanti ok allora datemene uno che Adriana mi dice il gas perfetto datemi le scadenze così ok niente prendo quello di Matteo allora CLZ5 ok che è il petrolio di dicembre e CLQ5 che se non ricordo male è quello di agosto esattamente allora ci sono tantissimi modi per costruire uno spread allora il più semplice è quello di andare a inserire le due gambe come ho fatto io in questo modo andare su una rega vuota cliccare su combinazione e una volta che abbiamo siamo nella sezione coppio gamba per gamba trasciniamo in una parte vuota la prima e la seconda gamba vedete che in automatico vi allargo un attimo così potete vederlo è presente l'acquisto e automaticamente la vendita delle due gambe gli diamo l'ok e in un batter d'occhio è presente il nostro spread per chi non avesse l'icona combinazione adesso la rimuovo così sono nella vostra stessa situazione per andare a richiamarla dobbiamo cliccare sulla freccia rivolta verso il basso alla destra del pulsante configura cioè dove sono io ora col mouse prendiamo la voce aggiungi altri pulsanti e la troviamo qua combinazione facciamo un click e vedete che nella barra dei pulsanti aggiunge il pulsante appunto che abbiamo selezionato ok quindi ok 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 perfetto vedo che ora è più chiaro faccio vedere un altro modo per costruire uno spread ovvero andiamo su una riga vuota prendiamo il tasto combinazione in alternativa se è uno spread intramarket cioè con lo stesso sottostante ma a scadenze differenti possiamo andare a prendere strategia cioè il secondo campo dove c'è la stringa bianca scriviamo il nostro sottostante che per comodità tengo il petrolio quindi cl attenzione a cosa scegliere non colgate palmolive che è un'azione ma light sweet crude oil che è il petrolio prendiamo spread su future tra parentesi smart gli facciamo un click aspettiamo che carichi la selezione che abbiamo appena eseguito ok perfetto a questo punto calendario spread è tradotto nell'inglese e l'italiano in modo abbastanza maccheronico comunque è un calendar spread cosa facciamo? mese contratto abbiamo detto che noi compriamo dicembre e vendiamo agosto quindi dove c'è buy prendiamo dicembre e dove c'è sell prendiamo agosto gli diamo l'ok e ovviamente a me non si crea un altro spread identico perché è già presente in pagina quindi mi riprende esattamente lo spread che abbiamo creato poco fa tutto chiaro? per come creare una strategia in spread? vado troppo forte lo so però nel senso il tempo ci è contro le domande saranno penso un'ottantina quindi comunque non preoccupatevi è presente la la registrazione a partire da lunedì e tanto che siamo qui in approfitto sul nostro canale youtube sono presenti nella nella sezione playlist tutti i domandi risposte vedete sono 19 video che durano un'ora e mezza quindi fate un po' voi i calcoli e qua veramente c'è tutto quanto o meglio ci sono tantissime domande che sicuramente sono sono state fatte per migliorarvi e per migliorare la vostra familiarità con la piattaforma allora intanto che siamo sullo spread prendo la domanda di Gianluca allora volevo mettere in uno spread lo stop loss e il take profit con il gruppo oca si va bene va bene si può fare innanzitutto il gruppo oca che cos'è il gruppo oca è un è un insieme di due o più ordini che appartengono a uno stesso gruppo che è appunto il gruppo oca l'obiettivo del gruppo oca è il seguente quando uno di questi ordini che appartiene al gruppo entra a mercato tutti gli altri vengono automaticamente cancellati come funziona per gli ordini bracket tant'è che anche gli stessi ordini bracket appartengono a un gruppo oca ma questo lo andiamo a vedere più avanti allora innanzitutto per andare a inserire un gruppo oca qua simuliamo un'entrata sullo spread perfetto qua abbiamo comprato lo spread allora a livello operativo il gruppo oca sugli spread si utilizza se si vogliono inserire più livelli di profitto altrimenti si usano semplicemente dei bracket e altra cosa il gruppo oca si utilizza quando noi siamo già a mercato e giustamente vogliamo andare a inserire take profit e stop loss prendiamo esempio di questo spread allora dobbiamo andare a inserire take profit e stop loss quindi dato che noi abbiamo acquistato la strategia che tipologie di ordini saranno take profit e stop loss degli acquisti o delle vendite aspettiamo qualche risposta ok ok delle vendite perfetto perché sono ordini di chiusura quindi clicchiamo su vendi andiamo inserire un prezzo allora noi siamo entrati a 1.32 la nostra take profit che è sempre un ordine limit la mettiamo che ne so a 3.5 giusto per andare a inserire qualche ordine inoltre una volta che abbiamo inserito l'ordine limit clicchiamo nuovamente su vendi questa volta andiamo inserire un ordine di tipo stop che è la nostra stop loss e gli andiamo a dare un prezzo per esempio 0.15 a questo punto qua entra in gioco la colonna gruppo oca andiamo a semplicemente a dare un nome a questo gruppo che può essere qualsiasi cosa gli unici caratteri che non prende sono le virgole i punti eccetera quindi possiamo chiamarlo per esempio spread cl facciamo la stessa identica cosa con il secondo ordine mi raccomando dobbiamo chiamarlo esattamente come il primo altrimenti non appartengono lo stesso gruppo noi lo trasmettiamo lo trasmettiamo e noi siamo coperti possiamo andare possiamo uscire andare a cena e soprattutto possiamo dormire sogni tranquilli senza avere sempre l'ansia dal mercato perché è assolutamente contro la nostra dottrina la nostra etica in questo modo noi siamo coperti siamo già al mercato abbiamo inserito due soglie di prezzo se ci prende la take profit automaticamente l'ordine stop viene cancellato e viceversa quindi noi abbiamo inserito correttamente e gestito a pieno una posizione la differenza tra gli ordini bracket e il gruppo oca non c'è non hanno differenza perché adesso non vorrei magari incasinarvi un attimo la la vita comunque se io vado ad aggiungere dei bracket vedete che in gruppo oca è presente un codice numerico che è esattamente identico tra take profit e stop loss quindi come ho detto prima gli ordini bracket anch'essi appartengono a un gruppo oca e rispondendo a Giuliano posso inserire un take profit con quantità parziale assolutamente sì noi facciamo finta qui che entriamo con un altro spread perfetto noi ora abbiamo due siamo long di due contratti in questa strategia abbiamo inserito il primo livello chiamiamolo così a 3.50 in profit e 0.15 in stop con un contratto quindi se dovesse prendermi questo uno dei due livelli l'altro viene cancellato automaticamente e saremo ancora dentro con ancora un contratto quindi cosa andiamo a fare andiamo a creare un'altra vendita impostiamo un altro livello di profitto un altro livello di stop che solitamente la si tiene uguale per entrambi i livelli e gli andiamo a dare un nome al gruppo mi raccomando non lo stesso nome di prima magari chiamiamo spread cl2 mi raccomando non deve essere identico al al gruppo ocadi prima altrimenti se entra uno di questi ordini gli altri tre vengono cancellati questo punto trasmetto e trasmetto e io ho già inserito due livelli due soglie di prezzo che ragionano a coppia quando il primo livello a prescindere che prenda stop o take profit quello che ovviamente non è stato toccato viene automaticamente cancellato si possono vedere su un grafico si andiamo a graficizzare tutto quanto allora prendiamo un tre mesi linea giusto per darci l'idea ecco qua ecco qua questo è il nostro spread qui abbiamo inserito le due stop allo stesso prezzo primo livello la x che vi sto quadrettando in modo molto grossolano scusate e le due lineette che ho fatto ora è il secondo livello quindi anche graficamente si possono si possono notare mentre Gianluca la colonna del gruppo oca la si trova adesso la cancello bisogna prendere una voce che è in basso tra queste quindi non prendete ask minimo massimo eccetera dobbiamo prendere una voce presente in basso cioè trasmetti prezzo stop status mi raccomando col mouse dobbiamo cliccare col destro su una di queste voci per esempio sto prendendo trasmetti e ci clicco col destro andiamo su inserisci colonna prima di il nome della voce che abbiamo preso e il gruppo oca lo si trova in attributi dell'ordine che è la quinta ultima riga e qua c'è il gruppo oca ci clicchiamo sopra ci chiederà se vuoi applicare la colonna gruppo oca anche agli altri a tutte le altre cartelle noi gli diamo di sì tanto è molto utile e abbiamo aggiunto la colonna del gruppo oca è molto bello il gruppo oca anche la gestione la si utilizza spesso perché con soprattutto per chi entra in spread con più livelli innanzitutto c'è una miglior gestione dello spread e per seconda cosa con un po' di accorgimenti si può si può veramente andare a controllare una posizione senza avere stress eccetera abbiamo già qua tutti i livelli un minimo di accorgimenti e il gruppo oca fa il resto per aprire il grafico dello spread basta ovviamente andare prima a creare il nostro spread per esempio quello che su qui stiamo lavorando ora e andare su grafico in alto automaticamente apre il grafico dello spread non vi consiglio di utilizzare le candele perché non non sono il massimo nel senso che lo spread bisogna intenderlo come una strategia artificiale interactive cosa permette di fare col tasto combinazione che ne abbiamo parlato inizio webinar noi possiamo veramente fare combinazioni su qualsiasi cosa anche cose che nel senso ci possono sembrare assurde io volendo posso fare uno spread tra che ne so apple e amazon quindi essendo una combinazione artificiale il consiglio che vi do è di utilizzare sempre la linea e non le candele ok ok poi corrado potresti far vedere come inserire e gestire un ordine trailing stop su un future o sul forex dopo essere già mercato si va bene va bene ti prendo allora il forex dovrei essere no me l'avevo inchiusa niente entriamo avevo una bella posizione euro sterlina ok la ripropongo allora la trailing stop innanzitutto che cos'è la trailing stop è molto simile a un ordine stop quindi è un ordine di chiusura di posizione il vantaggio della trailing stop rispetto alla stop loss è che è dinamica cosa significa che se il titolo va dalla mia parte in base alla mia analisi in base alla mia posizione la trailing stop segue questa mia questo mio andamento quindi è una stop dinamica vi faccio un esempio grafico così è molto più chiaro qua abbiamo euro sterlina ok ora lo vedete noi ora entriamo a mercato long perfetto con una linea vi inserisco un'ipotetica stop loss per esempio qua a questo livello ve la faccio anche più spessa ok questa è una nostra ipotetica stop loss cosa succede magari se siamo abbiamo altri impegni eccetera non abbiamo tempo di seguire i mercati ok noi siamo long abbiamo inserito la stop loss cosa può fare il titolo inizia a salire va dalla nostra parte noi non abbiamo inserito la take profit poi cosa può fare inizia a scendere e ci viene stop e veniamo stoppati tutto questo potenziale profitto l'abbiamo letteralmente mandato a quel paese perché con una stop loss noi abbiamo inserito un prezzo e quello è nel senso se non inseriamo una presa di profitti il titolo può andare da qualsiasi parte ma noi abbiamo la posizione chiusa solo se tocca la nostra stop loss ovviamente dopo si può alzare si possono fare tantissime cose ma se non abbiamo tempo la soluzione è la trailing stop cosa fa la trailing stop noi gli andiamo a inserire una distanza quindi non si parla più di prezzo stop ma di distanza distanza da cosa dalla nostra entrata un piccolo esempio ora lasciate stare un attimo il grafico e ragionate insieme a me c'è un titolo X che batte 20 dollari noi lo compriamo lasciate stare quantità eccetera noi compriamo un titolo che batte 20 dollari a seconda del nostro money management abbiamo inserito una stop a 10 il titolo come nel caso che vi ho fatto vedere prima può andare a 25 30 35 dopo per fattori macroeconomici tutto quello che volete crolla e arriva a 20 e mi stop la trailing stop cosa fa noi non andiamo a inserire un prezzo vi dicevo ma una distanza gli diciamo per esempio distanza 5 punti dal nostro ingresso quindi ingresso a 20 long e distanza di 5 punti quindi 20 meno 5 15 cosa succede? se il titolo va a 25 la trailing stop cosa fa? si alza mantenendo sempre la stessa distanza quindi rimane anch'essa sempre a 5 punti dal nostro ordine d'ingresso avete capito come funziona? così adesso andiamo a vederlo in pratica ni ok comunque in pratica vedrete che è più chiaro noi siamo long euro sterlina 50k andiamo a inserire una vendita quindi una chiusura di posizione di tipo trail gli andiamo a inserire un prezzo per esempio di una distanza scusate di di 0,7 quindi questo che vi sto indicando con la mia linea bianca è la distanza cosa succede? i casi sono due mi sposto più al centro il grafico che mi serve un po' di spazio se il titolo scende ovviamente è un ordine stop la trailing stop rimane ferma al prezzo che abbiamo inserito se il titolo sale automaticamente la trailing stop si alza mantenendo la distanza che gli abbiamo assegnato a inizio modifica dell'ordine infatti messo in pratica ora la trasmettiamo prendiamo un time frame più piccolino che magari lo vediamo subito ok questa è la nostra trailing stop ora vedete il titolo sta scendendo quindi la trailing stop rimane ferma se il titolo inizia a salire la trailing stop si alza di conseguenza non vedrete più qua in basso dove sono io ora col mouse 0.7 82 66 e 5 ma vedrete un valore più alto perché inizia appunto a prendere la direzione della nostra posizione no solamente se il titolo sale perché noi siamo long allora solamente se il titolo sale la trailing stop si alza altrimenti saremmo a mercato all'infinito perché se il titolo scende e la trailing stop scende non a parte che accuseremmo delle perdite atomiche perché saremmo a mercato fino all'infinito e se non va dalla nostra parte non è non è il massimo esatto si può fare anche sui futures adesso facciamo un esempio e la distanza riferita sempre al valore di ingresso in posizione sì esattamente conrado vedete qua sta ovviamente dato che sto facendo delle prove sta scendendo a me serve che salga comunque vedete che non si muove perché io sono disposto a perdere fino a 0.72 66.5 quest'ordine facciamo così lo lasciamo qua vediamo come se magari c'è una piccola risalita su su questo cross e lo vediamo più avanti andiamo a vederlo su un future su un future ancora più semplice ve lo faccio sempre vedere da grafico così rispondo a tutte le domande allora anzi no vi faccio vedere l'altro modo perché per chi non opera da grafico allora andiamo a inserire una innanzitutto un ordine facciamolo short così vediamo l'altra possibilità andiamolo a mercato così ok siamo entrati a 2.112 e 50 per inserirla dobbiamo cliccare su buy dato che ora siamo short dobbiamo andare ad acquistare per chiudere la posizione tipologia di ordine sarà trail non trail limit non trail lit quegli ordini lasciateli perdere mettete trail ok nella colonna importo trailing dove sono io ora quel mouse che vedete in azzurro sul vostro monitor qual è la distanza distanza da cosa così rispondo alle domande tra il mio prezzo di ingresso e il mio prezzo della trailing stop io gli voglio dire perfetto sono entrato short a 112 e 50 voglio inserire una trailing stop a 3 punti perfetto vado a digitare 3 perché vi faccio vedere amt lo vedete qua piccolino è la mount cioè la distanza in punti a questo punto io lo trasmetto e ora si che andiamo a vederlo graficamente sperando che magari si muova qualcosa andiamo su 5 minuti allora mettiamo un attimino più in mezzo che questo grafico qua non mi fa impazzire ok questo è il nostro ora la trailing stop è a 2115 se dovesse iniziare a scendere il titolo vedrete che la trailing stop inizia ad abbassarsi viceversa se sale la trailing stop rimane invariata l'ideale quale sarebbe cosa che ogni tanto faccio anch'io con col forex soprattutto con posizioni di medio lungo termine io ho inserito ho fatto la mia entrata a mercato inserito i due bracket quando mi sta andando dalla mia parte io tolgo i due bracket inserisco una trailing stop in pareggio quindi gli do la distanza necessaria affinché se dovesse ritracciarmi io chiudo in parità la posizione e la faccio correre senza alcun tipo di problema e dopo non la guardo neanche più allora c'è la possibilità di avere anche un allarme che ci preavvisa sì dal grafico è presente il tasto alert nel senso ci preavvisa da cosa qual è l'obiettivo dell'allarme volendo si può inserire da grafico un messaggio acustico o via mail che ci permette di essere avvisati se il titolo raggiunge una determinata soglia di prezzo ah no con la trailing stop no perché è dinamica non posso attaccargli un alert con gli posso inserire una soglia di prezzo però è una la soglia di prezzo ok che che la utilizza la trailing stop ecco vedete è sceso ed è scesa di un tic la mia trailing stop non è più a 2115 ma è scesa di un tic nessuno la utilizza dopo stasera chi è che la utilizza io personalmente nel senso vi do il mio parere nel senso lunedì non andate tutti a in trailing stop ci mancherebbe la è molto utile come ordine sempre in un'ottica come diceva mio collega Andrea a inizio webinar di non perdere tempo nel senso è veramente interessante e prezioso non farvi perdere tempo per questo noi nel trading club cosa facciamo vi dimostriamo che basta un'ora al giorno per portarsi a casa delle percentuali senza alcun impegno ci vuole veramente poco chiaramente un po' di allenamento e quant'altro serve ma il vostro tempo è veramente prezioso per gli spread è stessa cosa si può mettere anche con gli spread non cambia assolutamente nulla allora vediamo un po' qualche altra domanda se no faccio focus trailing stop allora possiamo vedere una panoramica dei nuovi menu legati alla scelta dell'analisi delle opzioni sì ma non stasera no vi spiego perché stiamo preparando io e Andrea un webinar che faremo insieme forse anche il nostro top trader Alberto Camuncoli un webinar incentrato solo all'option analytics cioè tutti quegli strumenti nuovi lo SKUA l'open interest eccetera che hanno inserito su piattaforma lo stiamo preparando perché come potete capire nel senso a noi non piace fare le cose a metà lo prepariamo e quando sarà pronto sarà veramente un capolavoro allora qualcosa relativo al money management sul trading journal trovi tutto quanto perché dipende sempre da nel senso money management è una cosa abbastanza da valutare per numerosi fattori propensione al rischio capitalizzazione strumenti sui quali si opera quindi sul trading journal in fondo è sempre dedicata una sezione al money management allora perché alcune candele dei volumi sono gialle oreste perché bene o male le quantità in bid e le quantità in ask si sono come si dice si sono pareggiate quindi non c'è stata una propensione in acquisto in vendita per quella determinata candela la trailing stop allora è a movimento fisso prestabilito dinamico nel senso che scatta ad un numero prestabilito di tico si muove a singolo tic si muove a singolo tic infatti come esaltatissimo Gianluca che sta scendendo è già scesa di un punto quindi ora se è a 111 25 il massimo di discesa è stato toccato a 111 eccolo qua se dovesse scendere ancora di un tic cioè a 110 e 75 la trailing stop scende ancora di un tic la fascia rossa perché siamo short si in alternativa c'è la la sfumatura in in verde ecco vedete è sceso di un tic la trailing stop si è abbassata di un tic poi sul titolo del webinar questo è un domandone Corrado si citava il DMA cosa sarebbe DMA è la struttura con il quale Interactive è nata e penso sia il il miglior punto di forza di questo broker oltre ovviamente a tutti gli strumenti che stiamo vedendo tutti quanti e ovviamente sono davanti agli occhi di tutti DMA cosa significa Direct Market Access accesso diretto al mercato IB non si accolla nessun margine per quanto riguarda le vostre posizioni spesso lo dicevo anche se non ricordo male due venerdì fa molti traders si lamentano che IB ha dei margini troppo alti su opzioni su future eccetera può essere quelli sappiate che sono i margini di mercato il mercato propone quel margine per tradare quel determinato strumento strategia cosa succede molti broker non è inutile fare i nomi altrimenti dobbiamo stare qua fino a tutto il weekend molti broker cosa fanno si accollano un po' di margine se per entrare su un contratto il mercato chiede 5000 affinché tu possa comprare barra venderlo cosa succede molti broker cosa fanno ti mettono dei super banner con scritto margini praticamente azzerati eccetera perché perché se lo accollano loro il rischio anziché avere una marginazione di 5000 magari con lo stesso contratto ma su un broker terzo il margine è la metà 2005 allora uno dice cavolo che bello il problema è che se succedono situazioni vedi svizzera non molto tempo fa alcuni broker sappiamo tutti la fine che hanno fatto perché non riescono più a sostenere i margini che si sono accollati quindi io preferisco avere mio modesto parere 1500 euro in più di margine e se succede una scossa chiamiamola così vedi svizzera IB ha perso l'1,5% della sua capitalizzazione altri broker il 98% quindi ognuno poi fa le sue scelte si mancherebbe IB poi è una piattaforma operativa voi siete assicurati non preoccupatevi 100.000 fino a 100.000 dollari in cash e 300.000 dollari in cash e titoli quindi siete assicurati sono 5 anni che vince IB come miglior broker online al mondo quindi siete assicurati non preoccupatevi allora IB permette l'apertura di posizioni contrapposte sul forex no no perché non è possibile aprire posizioni contrapposte in alternativa il consiglio che di solito do è quello di utilizzare se ovviamente è presente il dollaro come valuta futures da una parte e forex dall'altra tanto 100.000 di quantità forex equivalgono a un contratto future su IB e i margini con 100.000 dato che la leva è una 40 sono 2.500 giusto per rendere un attimo l'idea allora vediamo un attimo tutto chiaro finora intanto leggo un po' di domande scusate ma ce ne sono veramente tante datemi un feedback se è tutto chiaro non preoccupatevi che adesso rispondo tutto ok Andrea adesso arrivo col book trader tanto datemi un feedback ok 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 allora i nostri soldi non sono dentro IB no IB non è una banca depositaria no i vostri soldi sono frazionati fino al 5% al massimo sulle migliori banche al mondo quindi se proprio dovessi saltare una di queste banche cosa che è ovviamente improbabile oltre a essere assicurati il vostro capitale rimane intero per il 95% oltre all'assicurazione quindi non preoccupatevi che è un colosso si 300.000 euro no 300.000 dollari tra cash e titoli non preoccupatevi allora arriviamo all'operativo prendiamo la domanda di Emanuele come posso aprire una posizione su coca cola da grafico ok andiamo su coca cola che è all'interno del dowjons 30 ko apriamo il grafico ok inseriamo una posizione long o short la facciamo insieme proprio long ok quindi clicchiamo su acquista in basso basta un click e appare già la barra blu con il nostro acquisto però lasciamo stare un attimo il grafico concentriamoci su questa parte in basso abbiamo azione acquista quantità quanto ne prendiamo tanto la mia piattaforma potete anche esagerare non troppo però esagerare quante ne prendiamo ah appare una schermata perché non hai dati in tempo reale ok allora facciamo così facciamo finta perché se non sono in temporale appare un'altra schermata che ti faccio vedere qual è ovviamente anche tutti gli altri questa qui giusto questa schermata esatto questo è esattamente la stessa cosa ovvero è un ticket ordine è un altro modo per inserire un ordine se non si hanno i dati in temporale appare questa schermata facciamolo da qui andiamo a spulciare le varie voci la prima che vi sto evidenziando è l'azione quindi decidiamo se acquistare o se vendere la quantità mettiamo il numero di azioni in questo caso che vogliamo acquistare lasciate stare il contratto in alto tipologia di ordine decidiamo che tipologia di ordine inserire destinazione ci sarà smart sulle azioni quindi lasciate stare qua il naibot periodo di validità l'ultimo cerchio che sto facendo gtc significa buono fino a cancellazione vale per più giorni quando è finito tutto quanto anteprima per vedere i margini trasmetti per trasmettere l'ordine si è semplice è solamente un altro modo per andare a inserire un ordine e appare sempre quando non si hanno i dati in tempo reale la quantità mostrata ci chiede Andrea è diciamo un diciamo come possiamo dirlo è una quantità che ovviamente la utilizza chi entra con grosse pezzature e non è molto non sono molto d'accordo con questa voce vi spiego anche il perché la quantità mostrata cosa indica io voglio entrare con 10.000 apple vi faccio un esempio atomico ne mostro al mercato 500 quindi faccio un attimino il questo questo gioco mostrando le 500 non si vedono tutte le altre tutte le altre indifferenze l'unico problema qual è avendo nascosto tra virgolette le restanti azioni devono una volta che mi entrano le 500 automaticamente diventano 10.000 quindi tutte le azioni vengono inviate al server di interactive e poi vanno a vanno a mercato quindi c'è un rallentamento che in alcuni casi potrebbe far male poi nel senso non ho mai si è molto simile a un ordine iceberg esatto è simile l'unica l'unica cosa è che o si agisce su titoli veramente liquidi altrimenti si rischia di di farsi male e riguarda delle quantità importanti perché se entrate con tre contratti sull'SMP e me ne nascondete due nel senso non trovo questa grande utilità comunque sì allora ad esempio ordine 50.000 quantità mostrata 10.000 vengo eseguito con 5 ordini no 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 l'ordine è unico solo che rischi di essere di entrare al mercato dei prezzi che non se non c'è liquidità rischi di entrare a dei prezzi che non non ti sono comodi o anche a livello di timing non entri in quel determinato momento allora di quanto sono ritardati i dati un quarto d'ora sono 15 minuti indifferita ok 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 perfetto aspettiamo qualche domanda tutti i mercati sono 15 minuti ritardati all'inizio il forex è gratuito tutti gli altri sono in differita di 15 minuti a meno che non si vadano a sottoscrivere tramite dei micro pacchetti cioè giusto per farvi un'idea i futures americani costano 5 dollari al mese tutti quelli che vedete che ce l'ho anch'io questo pacchetto tutti questi energetici indici valute metalli energetici agricole carni eccetera tutti quanti costano 5 dollari al mese mentre se non si sottoscrivono ci sono 15 minuti indifferiti esatto e potenzialmente si possono vedere tutti i mercati senza spendere nulla esatto c'è un costo fisso annuale per i b no la piattaforma e il conto non hanno costi di mantenimento quello che costa sono le sottoscrizioni dei dati in tempo reale ma la piattaforma in sé e tutto il palinsesto i b non ha non ha costi costi fissi chiamiamo erano dimenticati di dire fissi allora cosa sono i mezzi propri a prestito giorno precedente fa riferimento a un'ipotetica liquidità del giorno precedente e sinceramente non l'ho mai vista non l'ho mai utilizzata quella voce comunque è quello fa riferimento alla liquidità del giorno precedente non riesco a trovare un'utilità quella quella voce comunque è quello ho visto una domanda su il riepilogo dei margini non mi ricordo chi me l'aveva fatta e sinceramente non la trovo che ce ne sono veramente tante datemi un istante che era molto interessante quella ah eccolo qua Enrico eccoti qua scusami quando clicco col tasto destro su un titolo non vedo la voce controllo impatto margine come mai probabilmente perché non è inserito un ordine nel senso ho qua il petrolio se clicco col destro sul petrolio tra queste voci non ho controllo impatto margine perché perché non ho inserito un ordine simuliamo un acquisto quindi clicco su ask e a questo punto cliccando col destro su la riga dell'ordine vedete che mi appare controllo impatto margine quindi c'è prima da inserire un ordine diamo controllo impatto margine e ovviamente ci appare ok 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 no figurati allora lo scanner di mercato che funzioni offre potentissimo ci ho fatto un webinar solo su quello e ve lo vado anche a riprendere allora su youtube in domande e risposte tvs allora vediamo se lo trovo vedete qua ce ne sono veramente tanti margine scanner più domande e risposte eccolo qua ve lo metto in chat su qua su goto webinar ok allora quali sono le sottoscrizioni necessarie per tradare negli strumenti che servono per questi due mesi nel trading club futures americani opzioni americane il forex non è gratuito sottostanti americani quindi azioni tf e per chi vuole l'italiano che grazie al nostro magico corrado propone delle analisi sia tecniche che fondamentali sull'italiano allora Italo ci chiede c'è una visualizzazione grafica della strategia che metto mercato si è presente la miniatura allora se vado su combinazione mettiamo che ne so apple prendiamo combinazioni di opzioni vediamo se è presente già qui una miniatura altrimenti c'è da andare sull'option trader allora no qua mi sa che l'han tolta si dobbiamo andare sull'option trader allora 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 strategy builder uno esatto facciamo finta di effettuare un vertical scadenza prendiamo la terza di giugno facciamo un bull put su apple giusto per farvi vedere come si usa dall'option trader andiamo su strategy builder che è l'ultima voce dove sono io a quel mouse prendiamo la prima gamba che cos'è la 110 la vendiamo e compriamo che ne so la 105 vedi in automatico viene mostrato la la visualizzazione grafica della strategia che si mette a mercato con bdask e qualche altra informazione sinceramente non mi piace molto lo strategy builder dell'option trader però volendo è presente questa possibilità allora se faccio variazioni di colonne colori eccetera come faccio per salvarli e portarli anche nella demo salvando i settaggi in che modo dobbiamo andare su file in alto a sinistra salva impostazioni con nome gli diamo un nome consiglio di salvarlo in modo nel senso non salvatelo in cartelle atomiche ma sempre nel senso sempre abbastanza semplice da trovare e dopo andiamo a cliccare su salva una volta che abbiamo salvato il file con nome dalla piattaforma per ricaricare lo stesso settaggio che abbiamo o su reale o su simulata file recupero impostazioni personalizzato e riprendiamo il percorso che abbiamo utilizzato per salvarlo gli diamo apri e la piattaforma viene riavviata tra l'altro anche lì c'è un video su youtube una pillola di due minuti per vedere come si caricano e salvano insettaggi comunque è molto semplice allora entrando su euro dollaro mi chiede 2500 dollari di margine iniziale 1500 di mantenimento significa che devo avere 4000 dollari sul conto per fare il trade no Giuliano tieni sempre conto del margine iniziale non si vanno a sommare il graffi il ma scusami il margine di mantenimento con quello iniziale assolutamente tieni sempre in considerazione quello iniziale per il forex per i futures per lo spread per le opzioni per le azioni per qualsiasi strumento allora si possono inserire studi personalizzati nel market scanner purtroppo no mi piacerebbe anche personalmente andare a scriverci sopra ma non posso non non è possibile non non si può scrivere infatti anche studi personali su grafico non si possono inserire occorre un software di terze parti esatto si da andare a interfacciare con la piattaforma esatto tra l'altro la piattaforma essendo come ho detto all'inizio praticamente totalmente operativa e si interfaccia con praticamente tutti i software di terze parti basta andare a attivare le api che sono quattro click e dopo si attacca benissimo ad altri software allora Emanuele cosa serve la maschera mosaic e come la uso anche qui dobbiamo fare un webinar sulla mosaic se riesco venerdì ve lo preparo un webinar sulla mosaic magari facciamo la prima mezzoretta sulla mosaic magari cinque e mezza sei sulla mosaic e dopo facciamo un domanda e risposta generico si la mosaic è un altro tipo di visualizzazione comunque della piattaforma anticipo questo vedete è un altro tipo di visualizzazione dove andando a sbloccare il layout è possibile andare a spostare le varie varie voci cancellare quelle che non ci servono insomma si può andare a personalizzare avere più finestre tutte all'interno di un'unica schermata oppure però vedere un giochettino su due schermi vi faccio vedere degli ipotetici layout di lavoro su spread su opzioni su forex poi la ragioniamo insieme non preoccupatevi e ne approfitto vi aspetto venerdì prossimo che facciamo un focus sulla mosaic dato che è molto richiesta a quanto pare allora francesco non ho capito la tua domanda scusami riesci a riscrivermela allora puoi espandere il grafico della strategia no purtroppo non lo strategy builder rimane rimane così piccolino poi giampiero non riesco a visualizzare seasonal spread sul grafico dobbiamo ci guardiamo in privato dopo tanto i miei contatti li avete giusto la mail è davide chioccio l'assistenza brokers punto it vi scrivo qua in chat il mio contatto skype così ci dobbiamo andare a vedere in privato così andiamo a risolvere la visualizzazione degli spread allora francesco vorrei sapere se si può visualizzare il grafico della nostra operazione inserita ok ah ok mentre il builder visualizza solo un profilo generico si 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 può fare scusami non avevo capito la domanda che non era complessa non ce l'ho fatta facciamo così datemi una strategia cosa facciamo una in opzioni qualsiasi non stai a diventare matte a perdere tempo anzi andiamo subito su combinazione ok vediamo datemi un titolo qualsiasi che andiamo a costruirci una strategia apple bull put perfetto quello che ho fatto prima combinazioni di opzioni allora prendiamo un vertical spread quindi perché abbiamo detto bull put scadenza prendiamo luglio 17 luglio a parte che aggiungi ci sono gli earnings quindi non sarebbe il massimo però è giusto per farvi vedere a titolo didattico che si può andare a graficare la strategia diritto abbiamo detto put perché facciamo un bull put e vendiamo boh vendiamo 98 e 57 ci copriamo con 97 e mezzo a caso non gli piace non c'è quello straica allora prendiamo la 100 vediamo se gli piace sì perfetto si paga la bellezza di 3 dollari a contratto questa strategia super strategia comunque non è importante questo francesco e anche tutti gli altri per andare a aprire il grafico della strategia basta selezionarla col sinistro andiamo su grafico allora dobbiamo andare a prendere un time frame piccolo perché vedete io ho un 6 mesi giornaliero e mi dice come suggerimento non è disponibile per barre giornaliere quindi prendiamo che ne so un 2 giorni 5 minuti esce una cosa di questo tipo che non è il massimo dato che nel senso è il grafico di una strategia quindi è vediamo se un mese barre 30 minuti si non non è il massimo nel senso ci può fare non questo indubbiamente non è bello da da vedere esatto Giuseppe ci consiglia è vero che tra l'altro lo stiamo preparando quel webinar per grafici più evoluti e calcoli di probabilità su strategie in opzioni si può usare l'option strategy lab esatto e l'abbiamo nella lista di applicativi di IB che hanno inserito e vi spiegheremo io e la io e Andrea quindi si 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 lo strategy lab poi faremo vedere il volatility lab e molte altre cose Emanuele sembro i segnali morse del Titanic si è vero ma più che altro nel senso prendetela sempre come con le pinze la strategia a livello grafico soprattutto con le opzioni con gli spread va bene nel senso qua ho un ZC KE e funziona a livello grafico vedete anche voi che è vivibile mentre col grafico soprattutto in combinazioni di opzioni personalmente non lo guardo guardo anche perché essendo derivati io vado direttamente su sottostante agisco di conseguenza poi dipende sempre dalla vostra operatività eccetera si può andare a trovare un compromesso Francesco ci andiamo a vedere assieme in privato e troviamo una soluzione se proprio ti interessa il grafico dell'opzione ci mancherebbe ok aspettiamo le domande ah ok era solo per sapere ok ok qualcosa sulla leva Emanuele su che strumenti azioni azioni e forex allora col forex 1 a 40 sui maggiori cross e 1 a 30 su quelli minori con le azioni è allora le azioni americane è 1 a 4 quindi è 1 a 4 in intraday e in overnight raddoppia quindi 1 a 2 allora ma se ho un calendar come faccio a seguirne i movimenti per fare aggiustamenti visto che i b cambiano se non ho il grafico payoff dobbiamo vedersi in privato Dennis però anche qui si dobbiamo si dobbiamo ragionare un attimo assieme si contattami così si prendiamo un appuntamento e ci lavoriamo su allora ma se voglio posso lavorare senza leva sì volendo sì non è molto conveniente nel senso che a livello di controvalore alcune strategie chiedono molto soprattutto per chi fa spread eccetera non è conveniente a meno che non si hanno dei capitali veramente ma veramente grandi allora Andrea vengo da una piattaforma che non permette lo scoperto wow fantastico puoi darmi delle notizie in merito all'azionario Andrea americano europeo italiano americano comunque si si può vendere qualsiasi cosa america si 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 guarda giusto ho dato un'idea si può vendere si può tenere fino all'infinito nel senso è praticamente identico all'acquisto quindi voglio vendere generale electric posso farlo voglio vendere che ne so catamaran 800 azioni posso farlo non ci sono vincoli allora nel market scanner c'è la possibilità di individuare sottostanti che hanno opzioni settimanali no purtroppo no resta bisogna appoggiarsi o all'esperienza stavo dicendo da siti terzi ma non me ne viene in mente nessuno comunque no i parametri del market scanner vanno in riferimento a diciamo la salute o a dei filtri che dipendono dalle azioni stesse ti faccio un esempio perché la frase so che non è molto chiara su market scanner vi posso vedere i titoli che hanno avuto un un uptrend nelle ultime 52 settimane posso vedere chi ha una volatilità implicita più alta posso vedere chi sta guadagnando di più in questa giornata in questa settimana in questo mese insomma tutti quei parametri che dipendono direttamente al sottostante il market scanner funziona anche a mercati chiusi sì ma ovviamente troverà meno titoli ti faccio un esempio andrà anche a tutti gli altri che è intelligente come domanda qui 15 e 20 nasdaq 100 quanti titoli sono aperti sull'elettronico se va bene 5 o 6 che iniziano già ad aprire un attimino prima della apertura regolare se si fa andare il market scanner a quell'ora anziché avere un paniere di mettiamo 600 azioni tra tutte le azioni americane eccetera anziché avere un paniere così grande si avranno 40 titoli e di conseguenza anche i risultati della ricerca saranno nettamente inferiori infatti noi su facebook sulla nostra pagina facebook che è assistenza brokers abbiamo creato una rubrica che si chiama top gainers e top losers cosa facciamo andiamo a fare a mostrare le foto alle 15 e 31 quindi un minuto dopo l'apertura di chi in quel momento future e azioni americane sta guadagnando e sta perdendo di più quindi tutti i giorni mettiamo queste 4 foto nella nostra rubrica nella pagina facebook allora torno un attimo su con le domande il tutto con l'event 3day 4 a 1 si andrei esatto e per quanto riguarda so che a breve me lo chiederai il profilo commissionale lo trovi sul nostro sito comunque con 100 pezzi sono poco più di un dollaro un dollaro e dieci quindi giusto per darti un'idea certo allora poi comunque nel senso per info contattaci pure i miei contatti li ho messi anche lì nel senso ti daremo una mano allora come faccio a vendere qualcosa che non possiedo allora qua mi serve qualcuno di voi però che che spiega insieme a me la vendita l'ho scoperto Alessandro ottimo ok Alessandro ti attivo ti attivo l'audio puoi parlare ok sento che stai ok ecco sì 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 sentivo che sta via ciao Davide buonasera a tutti ciao ciao Alessandro prego vendita l'ho scoperto dimmi tutto la vendita l'ho scoperto è una cosa per i non addetti ai lavori poco poco intuitiva però molto semplice da da farsi nel senso che se io voglio vendere l'ho scoperto un'azione ad esempio il broker mi presta qualcosa che quindi non è mio e io posso venderlo al mercato venderlo al mercato significa che quando qualcuno me lo comprerà questa cosa che io sto vendendo io scommetto o comunque sono speranzoso che questo questa azione che ho venduto perda di valore in modo tale che quando andrò a chiudere la mia posizione e quindi dovrò riacquistare l'azione che avevo precedentemente venduta venduto e la dovrò restituire al broker quella delta di prezzo tra il momento in cui ho venduto e il momento in cui ho riacquistato mi ha generato un profitto è diciamo la stessa cosa che facciamo quando andiamo long quindi compriamo un titolo azionario e speriamo nel rialzo solo che con questa tecnica quindi di vendita l'ha scoperto anche conosciuta col nome di short selling noi speriamo nel depreciamento dell'azione e siccome non possediamo fisicamente l'azione la chiediamo in prestito al broker il quale ce la concede ce la dà e ce la lascia affinché noi non gliela restituiremo con la chiusura dell'operazione 10 lode grazie è chiaro ora anche a tutti gli altri chiarissimo chiarì perfetto Alessandro venerdì prossimo lo fai te il webinar va bene più o meno sto a casa vieni te a farlo il webinar grazie sempre molto gentile buona serata e buon weekend ciao ciao Alessandro ciao grazie ok ottimo grandissimo intervento di di Alessandro allora vendita lo scoperto azioni usa questo è un domandone che vi faccio tutti quanti Andrea ci chiede meglio vendere direttamente azioni o farlo a mezzo CFD sentiamo ok meglio azioni o CFD ah ok nel senso quelle dei due ci costa meno eh no costano meno a livello commissionale dici ok ok allora Renato giustamente dice con i CFD il margine è inferiore ok question d'accordo Alessandro dice meglio le azioni ma i CFD sono più economici e sono d'accordo sono ancora più d'accordo con Roby che scrive opzioni tutta la vita meglio azioni o CFD meglio opzioni esatto comunque tra le due nel senso non c'è una scelta nel senso vanno bene tutti i vostri interventi quindi i CFD il margine è minore sono più economici eccetera meglio meglio le azioni nel senso perché sono sempre derivati quindi ok allora Andrea ah sì eccoti qua avevo perso la domanda scusami è un webinar fatto sulla comprensione del book sì dovrei avere qualcosa inoltre ho un video che allora ho un video eccolo qua come configurare il book con gli ordini bracket di solito mi chiedete tutti questo allora ci ho fatto sopra un video di 10 minuti questo è interessante nel senso di solito di solito lo chiedete che con un click uno interviene direttamente con take profit e stop loss eccetera in alternativa lo lo vedi alla prossima volta facciamo un focus mosaic più book trader più domande e risposte perché anche Andrea M all'inizio mi aveva chiesto come configurare il book per ora vi dovete accontentare di quel video così vi preparate miliardi di domande e le andiamo a vedere venerdì ok ok no figurati figurati anche con Andrea M mi scuso ma le altre domande hanno preso sopravvento quindi vi ho lasciato il link del video che dura una decina di minuti su come attaccare take profit stop loss lo andiamo a vedere sicuramente venerdì prossimo venerdì prossimo allora lo ufficializzo anche con l'amministrazione sperando che mi dia il permesso mosaic e book trader quindi sarà una bella sessione mi raccomando non fatemi parlare un'ora e mezza io nel senso per chi mi conosce preferisco renderla interattiva nel senso la la sessione sia anche in un'ottica di nel senso apprendimento e di coinvolgimento e poi perché nel senso parlare per un'ora e mezza davanti a un computer non è il massimo detto proprio in soldoni signori direi che è andato anche questo weekend a breve domani mettiamo a posto qualcosina a livello amministrativo ci sarà sul nostro sito la lista di tutti gli eventi della settimana noi ovviamente ci rivediamo venerdì prossimo che abbiamo detto mosaic più book trader gli ricordo gli appuntamenti a partire da lunedì tutti i giorni ore 14 trading journal online e gratuito sul nostro forum sezione 20 con tutti gli appuntamenti che quotidianamente proponiamo per migliorarvi io auguro a tutti una buona serata un buon weekend da assistenza brokers e ci vediamo lunedì a l'uomo dopo